Visto, l'abbiamo detto, almeno io, che quella che abbiamo visto era una ternana troppo brutta per essere vera. Si aspetta a Ponte Della di vedere quella vera o di vedere cosa di diverso rispetto all'ultima prestazione? Ma sicuramente, anche analizzando la partita con il Pescara, possiamo fare molto molto meglio poi tra quella vera e quella falsa, non sono d'accordo nel senso che abbiamo stravolto la rosa e bisogna dare tempo a questi ragazzi di amalgamarsi, di conoscerci, di crescere. Indubbiamente i margini di miglioramento sono tantissimi, ma mi aspetto nella partita di domani sicuramente un altro atteggiamento dal punto di vista difensivo, con un'altra cattiveria nel voler difendere nel non voler prendere gol, ma al di là di non voler prendere gol, nel voler essere padroni anche in fase difensiva aspetto a una squadra che aggredisca molto di più, che copre molto di più la palla che cerca di essere artefice del proprio destino. Mister, buongiorno. Ultime notizie, Cianci da Catania e Vannucchi dal Mercato Svingolati sono i rinforzi che si aspettava? Noi su ogni ragazzo l'abbiamo seguito, l'abbiamo condiviso, quindi con la società c'è grandissima sintonia noi sapevamo quello che volevamo fare e che vogliamo fare, quindi sono contento sicuramente dei nuovi arrivati, porteranno esperienza dentro il gruppo e poi starà loro conquistarsi il posto non è sempre il campo che è quello che parla. A te. Mister, buongiorno. Ciao. Allora, il Ponte del Re è una squadra comunque abbastanza ostica, no? Perché è molto fisica, tenace, che cerca di fare quello che gli è dell'allenatore e quello che le domando è, rispetto alla partita precedente, lei non ce lo dirà chiaramente, però ha in mente delle soluzioni alternative rispetto a quello che abbiamo visto o comunque continuerà nel lavoro che ha fatto fino adesso adattandosi sicuramente all'avversario che andrà ad affrontare. Vedremo una ternana diversa soprattutto a centrocampo oppure rimarrà sempre come l'ultima partita? Voi siete fissati sui moduli ma non è la questione dei moduli, ve l'ho detto il primo giorno il modulo è, ormai si parla di modulo per la predisposizione statica in fase difensiva, no? Come difendi, ma noi potremmo anche cambiare in fase difensiva, non è quello il problema. Il problema è l'attitudine nel voler difendere, nel voler coprire la palla, nel voler essere protagonisti, nel voler mordere l'avversario e non voler prendere gol. È una roba completamente diversa, ma sono contento, vi ripeto, della settimana dei ragazzi. Sono 15 giorni che comincio a sentirli, lo percepisco, sono sensazioni. Settimana scorsa vi ho detto la stessa cosa e lo ripeto questa settimana. Hanno fatto una buonissima settimana. Si vede, si percepisce quando il gruppo ha voglia di crescere e percepisce il momento, no? Che è anche il momento di muovere la classifica, di fare punti. Indubbiamente a Pontedera è un campo difficilissimo, sintetico, stretto, ma ci andranno tutte le squadre, bisogna giocare, bisogna adattarsi. È il momento di togliersi un po' lo smoking e mettersi nel metto. Le partite, ve l'ho detto, si vincono anche sporche. Mi aspetto quella tenacia, quella cattiveria da parte dei ragazzi che mi hanno fatto vedere in questi giorni e vi assicuro che hanno fatto una settimana ad altissimo livello dal punto di vista dell'intensità, della voglia, della cattiveria. Poi per quanto riguarda il gioco, arriverà col tempo, quando si conosceranno meglio, quando saranno più sicuri di se stessi, non è quello il problema. Il problema è trovare quella solidità anche in fase difensiva per poter anche recuperare palla in zone di campo diverse. La mia domanda è un po' sulla falsarica dell'ultima. Sono d'accordo con te, condivido che non contano i numeri, i sistemi di gioco, la disposizione in campo dei giocatori, ma contano i principi, le strategie. Però credo, permettimi, poi sei tu che è un conto giocare con le due punte, è un conto giocare con i tre quarti, cambiano le cose, no? È questo che ti voglio dire. Sarà la ternana, quella iniziale, no? 4, 2, 3, 1, che tu ci hai lavorato molto, o torneremo adesso alla scelta delle due punte? È una cosa che ci stai lavorando e che quindi è cambiato. La domanda è ancora più analitica. Perché questo cambiamento? Le due punte che abbiamo visto, dopo che ti abbiamo visto lavorare, sempre con i tre tre quarti e una punta centrale? Ma col Pescara, sinceramente, era una partita molto più strategica. Avevamo da una settimana dove molti interpreti non erano stati bene dal punto di vista fisico ed è stata una necessità, da una parte una necessità, da una parte strategia. Ma domani giocheremo con una punta, continueremo ad andare avanti su quella strada. È la strada che i ragazzi si sentono addosso per quello che è stata costruita questa rosa. Poi, indubbiamente, si potrà passare in alcuni momenti alle due punte a forzare la partita, però la strada è quella. Poi si può impostare a due, si può impostare a tre, quello non cambierà mai, però i principi resteranno sempre gli stessi. Buongiorno mister, un flash sulla partita col Pescara, perché poi è stato il punto di partenza, credo, l'analisi di quella partita per il lavoro settimanale, poi si è passato nello specifico al Ponte d'Era. Premesso che quello che è capitato a Franchi è capitato anche ai più grandi portieri, quindi quello è un episodio a sé stante. Penso che magari ti è dispiaciuto di più come è stato preso il secondo gol, che è stato un discorso un po' collettivo. Quindi volevo chiederti, visto che perdere la prima in casa, penso i più costernati siate voi, pubblica deluso, voi siete costernati e ancora più delusi, come hai affrontato questa settimana a livello mentale e poi come è stato valutato tutto il discorso di quell'errore, che magari è stato... Del secondo gol, intendi? Eh sì, quello è un errore collettivo, credo, no? Siccome so che sei uno che fa anche molto autocritica, mi dicono persone che ti conoscono. Ma io credo che poi, per quanto riguarda l'errore di Franchi, a me dispiace molto dal punto di vista umano, perché poi non è... quello non è un errore che mi fa, tra virgolette, arrabbiare a me, perché è come se un difensore sbagliasse uno stop, o ci fosse un liscio, sono cose che capitano, quindi indubbiamente se vogliamo alzare il livello dobbiamo cominciare anche a diminuire gli errori singoli, perché da questo precampionato ce ne sono stati tanti. Poi, analizzando i dati della partita con il Pescara, noi praticamente abbiamo avuto un possesso palla leggermente superiore a loro, abbiamo vinto i duelli, anche se non sembrerebbe per poco più di loro, abbiamo fatto molti meno attacchi alla profondità, rispetto a loro, loro hanno fatto 3-4 tiri in porta più di noi, sta una partita essenzialmente brutta ed equilibrata, e gli episodi poi ci hanno girato anche male, perché prendono un gol così, ma quello che mi fa arrabbiare è il secondo gol, ma il secondo gol è figlio, è stato figlio, è stata una conseguenza dell'atteggiamento del primo tempo della squadra, perché non puoi stare sempre per 45 minuti sotto linea palla, cercando di scivolare, quella è una mentalità che ci si porta dietro qui da noi in Italia, per le squadre che lottano per non retrocedere, giochi sull'avversario, pensi che difendendo lì non prendi gol, invece prima o poi lo prendi, per vincere devi cercare di essere tu l'artefice del tuo destino, devi andare a mordere alto finché ne hai, devi coprire palla, dovranno arrivare palle sporche in avanti, come ha fatto il Pescara con noi, quello è stato il grande merito, secondo me, del Pescara, non ci ha fatto giocare, ha avuto grande intensità ed è uscita una partita sporca, questo mi aspetto dei miei ragazzi, ma me lo aspetto perché ce l'hanno nelle corde, l'hanno dimostrato e sono 15 giorni che in allenamento, credetemi, vanno forte, vanno forte con attitudine importante, sacrificio, i dati sono veramente importanti, i miei dati fisici, ma la percezione, al di là dei dati fisici, la percezione che credono in quello che fanno, quindi abbiamo bisogno di tempo, è una squadra che quando cambia più di 11-12 interpreti si può chiamare rivoluzione, non so voi come la chiamate, quindi capisco che di tempo non ce n'è, ma è fisiologico, però quando vi ho detto che dentro questo tempo per fare in modo che la squadra si esprima al massimo e poi bisogna vincere le partite sporche, con un'altra tigna, con un altro atteggiamento, noi, l'ho detto anche ai ragazzi, glielo ho detto stamattina, e ve lo dico a voi, secondo me il nostro percorso, la nostra crescita e i punti che faremo in campionato passeranno dalla fase difensiva, se noi faremo una fase difensiva con la mentalità da grande squadra, di non voler prendere gol e difendere a 40-50 metri dalla porta, questa è una squadra che può far male veramente all'avversario, se pensiamo che basta scivolare e nell'inconscio pensi che fai meno fatica a stare lì, allora rischi di combinarla in ogni momento, e questo è quando vi riceve lo step da fare quando una squadra deve vincere il campionato, quando una squadra deve fare un campionato di vertice, e non è semplice metterlo nella testa dei ragazzi, quindi vedo che ci stanno credendo, io ho tra le mani una squadra forte, ma io l'ho detto anche a loro, se vediamo i nomi, le loro carriere, ma purtroppo non vanno in campo i nomi, non vanno in campo le carriere, va in campo il veleno che tu hai in questo momento qui, va in campo la tua ambizione, va in campo la tua voglia di rivalza, va in campo il carattere, e questo io credo che i ragazzi dentro di loro ce l'hanno, va tirato fuori, devono aver voglia di sognare, perché senza quella motivazione lì, poi i sacrifici sono uguali in tutte le categorie, sia che ti devi salvare, sia che devi vincere, e bisogna farli, bisogna farli bene, visto che tanto vanno fatti. Grazie a voi. Buongiorno, allora due cose sugli ultimi due ragazzi arrivati, per l'appunto il portiere Vannucchi, l'attaccante Cianci, gli chiedo nel limite possibile, quali possono essere le prospettive di utilizzo già per domani sera, considerando anche che Cianci, da quello che so, ha saltato gran parte della preparazione a Catania per un problema muscolare, lo avete valutato e superato questo problema, e riguardo il portiere, poi un eventuale errore. Cianci, lui ha avuto un infortunio, più di un mese fa, sinceramente, ed è completamente a posto, solo che in questo mese ha fatto una rieducazione, non si è mai praticamente allenato con la squadra, quindi manca di ritmo partita, manca nell'assaporare la palla, poi dal punto di vista fisico, ha un fisico importante, ha bisogno di ritmo, non c'è tempo per fare una preparazione vera e propria, quindi dobbiamo cercare di trovare la strada più veloce, di dargli ritmo piano piano, ed è un giocatore importante, che è arrivato con grandissimo entusiasmo, e Vannucchi lo seguivamo da tempo, un giocatore d'esperienza, anche per quanto riguarda il portiere, noi sapevamo che noi avremmo fatto il portiere, ma già da tanto, nel senso perché partire un campionato senza un vero portiere, che abbia giocato con continuità in carriera, indipendentemente da chi partisse titolare o no, non era nei nostri pensieri, quindi dovevamo fare un profilo, poi abbiamo seguito vari profili, e si è concretizzato Vannucchi, che è un portiere di assoluta esperienza, e poi sempre il campo dirà chi meriterà di giocare e chi no. A proposito di portiere, io riprendo una frase di Belasco, che dice che non esiste l'errore clamoroso, è una fake, perché è clamoroso, quindi succede una volta e non succede più, nella valutazione di Franchi, e quindi anche in ottica formazione, se non per Ponte D'Era, anche in futuro, è vero quello che dice Belasco, oppure pesa in modo particolare quell'errore, secondo lei? No, ma la mia valutazione, ve l'ho detto prima, quello è un infortunio, non è un errore vero e proprio, quando un difensore fa un liscio sulla linea di porta, è un infortunio che capita a chiunque, quando lo fa il portiere si paga a caro prezzo, purtroppo quella è la legge del portiere e dei difensori, molto spesso, quindi, no, io sul ragazzo lo vedo tranquillo, sta lavorando, deve migliorare tanto, poi per quanto riguarda domani vedremo, io nella mia testa gli undici titolari li ho già scelti, quindi non ho dubbi. Di sicuro sa calciare il pallone, perché durante la partita con il Pescara ha messo più di un pallone importante, anche centralmente, di sicuro sa calciare il pallone. Chi? Franchi. Ah, ma Franchi penso che... Perché col Pescara ho visto almeno tre o quattro lanci dall'area di rigore, palla bassa che arriva direttamente alla punta, quindi c'ha anche un'idea di come impostare il gioco. No, ma lui ha conoscenza, ha padronanza del ruolo, ha padronanza tecnica, indubbiamente poi quando un ragazzo non gioca con continuità in carriera, giocare la domenica è un'altra roba, le distanze, la pressione, ci sono 3.000 dinamiche e nel percorso di crescita del ragazzo lui non ha mai trovato continuità nella sua carriera, quindi certi errori sono anche fisiologici nel gioco, indubbiamente poi quando ci ritroviamo in questo momento qui che troviamo un ragazzo che non ha mai giocato in carriera, bisogna anche concedere qualcosa, no? Quindi io da quel punto di vista io mi avveleno quando un ragazzo non reagisce, perché cadere è fisiologico, cadiamo tutti nella vita, ma bisogna avere il carattere per rialzarsi e continuare a lavorare e perseverare, io il mio pensiero non lo cambio nella vita, credo, ma in tutti i settori se uno non lavora a testa bassa, non persevera, ottiene ben poco dalla vita, quindi nel calcio è uguale. Un'ultima cosa, lei ha parlato di attitudine anche a lavorare, a vincere le partite sporche, quella con il Ponte d'Era sarà una partita sporca sicuramente, quindi avrà lì già una prima risposta importante, si attende una prima risposta importante a questo suo messaggio. Ma io mi aspetto risposte e ti dico tutti i giorni dei miei ragazzi, perché bisogna lavorare forte tutti i giorni, non tre giorni sì e uno no, quel giorno lì di pausa mentalmente non va bene, altrimenti non alzi mai il tuo livello, quindi le risposte io le voglio tutti i giorni, credo che poi la prestazione veramente sia figlia della settimana, mi auguro, come vi ho detto settimana scorsa, che entrano in campo con la cattiveria, ma anche con la convinzione inconscia, avere un pizzico di presunzione non è un male, sentirsi sentirsi forte, sentirsi fallo pesare all'avversario che siamo la Ternana non è un male, è un filino necessario ma poi va dimostrato va sempre dimostrato sul campo, nello sport poi non basta come si dice, non basta come sta andando la vita che ormai sta andando che conta più l'immagine, bisogna essere, conta la sostanza e quella bisogna farla pesare, specialmente in quelle partite sporche, anche perché poi in un arco del campionato sono in quelle partite sporche che riesci a vincere che sono i punti pesanti, quando la squadra magari non sta bene non riesce a esprimersi e riesce a portare a casa lo stesso che ti giochi tanto. Mister, una domanda, lei prima ha detto una cosa interessante, importante, ha detto la squadra è forte, questa è una dichiarazione importante perché rappresenta comunque un gradimento che lei ha rispetto al mercato che la Ternana ha fatto, effettivamente anche io penso questo che la squadra per la categoria Svc ha nomi importanti e che quindi possono dare seguito a quello che è il progetto societario dell'inizio. La domanda però è questa, lei parlava bisogna saper tirare fuori quella cattiveria, quel veleno come ha detto lei, come fa un allenatore a tirare fuori da giocatori e lei il ricordo del calciatore ancora ce l'ha quindi in questo penso e spero che sia facilitato rispetto a chi ormai ha lasciato il campo. Come si può fare? La prima domanda cioè come fa lei come potrà fare ma soprattutto secondo lei l'ansia della prestazione del risultato che spesso la piazza mette addosso alla squadra è un qualcosa che stimola o qualcosa che fa da deterrente in senso negativo? Quello cambia da gruppo a gruppo perché poi vedete anche voi che ci sono state piazze ma anche nel recente passato con nomi importanti che ho visto sono arrivati i dodicesimi i tredicesimi e avevano nomi veramente importanti per la categoria quindi il nome non scende in campo io credo realmente che ho a disposizione una squadra dal tasso tecnico per la categoria veramente importante ne sono convinto ma lo sanno anche i ragazzi poi cerco di instaurare un rapporto schietto e sincero con loro io cerco di essere coerente e cerco di dire le cose come stanno quando un ragazzo non dà quello che deve dare fa degli errori indipendentemente dalla carta di identità lo faccio notare ma lo faccio notare poi magari mi porterà il muso per un giorno due giorni tre giorni ma gli passerà io sono stato abituato così anche io ho preso qualche scappellotto pesante nella mia carriera da qualche mio compagno da qualche mio allenatore ma poi credo che il giocatore di spessore l'uomo di spessore sia orgoglioso e quando uno è orgoglioso allora riesce a tirar fuori e voler dimostrare quello che è se invece uno poi fa solo il permaloso evidentemente a livello umano c'è poco quindi io credo che invece a disposizione è un gruppo di giocatori importanti che ci tengono e specialmente avendo fatto così tanti acquisti credono in questo progetto credono negli uomini nei direttori credono nel presidente quindi credono nella piazza io ho letto i messaggi di giocatori che volevano venire a Terni e vogliono venire a Terni perché credono nei direttori nel presidente e in questa piazza realmente che si è che si è blasonata e che si possono fare cose per bene e questo deve essere un vanto per voi per i tifosi e per questo dico non bisogna vedere sempre tutto in modo negativo perché poi se no ce lo portiamo dietro io credo che ci sono le basi per poter far bene e per poter crescere sempre di più indubbiamente poi i giudizi sono sempre in base ai risultati ma questo è il calcio però poi bisogna avere anche un po' la lucidità di capire il momento di capire che veramente anche per i ragazzi non è facile il tempo ogni 3-4 giorni arriva un ragazzo nuovo il tempo di ambientarsi c'è gente che ancora non trova casa e ancora non porta dietro la famiglia non è semplice e capitemi bene queste non sono scuse questo è il calcio in generale però in questo momento qui il nostro pensiero è di andare a Pontedera consapevoli del fatto di aver fatto un'ottima settimana e ci deve dare tanta convinzione tanta fiducia per poter ottenere i tre punti domani questo è indipendentemente dall'avversario il Pontedera è una squadra esperta una squadra che ha nel reparto offensivo secondo me giocatori veramente importanti sulla catena sinistra è veramente pericolosa cercano tanto il gioco diretto quando sono pressati Corona è alto 2 metri 0-2 non so quanto è alto il ragazzo è un giocatore importante ha tanti giocatori interessanti però indipendentemente da quello io credo che conta quello che vogliamo fare noi domani se noi vogliamo andare lì con l'ambizione con la voglia di tornare a Terni con i tre punti dobbiamo metterci dentro quello che abbiamo messo dentro questa settimana e sono convinto non so come andrà a finire ma che i ragazzi faranno una buona partita grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti